E' un classico treno fatto con la chitarra, la slide, ciò vuol dire, un bel colo di bottiglia, in questo caso non mi ricordo se era un barbara o un Chianti, ma poca importanza, come si faceva nei vecchi tempi. Non ho tren time! No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.